Le città in Italia dove si lavora peggio sono ben 30 su 110 capoluoghi di provincia. Semaforo rosso per tutta la campagna, o meglio, fascia rossa, per Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Napoli. Il capoluogo di regione, oltre ad essere posizionata nella fascia rossa, si trova tra le peggiori di questa zona, tecnicamente bocciata. Per la precisione, la quart'ultima, seguita solo da Enna, Crotone e Andria. Milano, Trieste, Udine, Bergamo, le prime quattro città al top della classifica su 110 capoluoghi di provincia italiana in fascia verde. Per trovare una provincia del mezzogiorno bisogna scendere in fascia gialla con valori intermedi. Diciamo il purgatorio della classifica, stilata dalla Fondazione Aido, associazione italiana per la direzione del personale, migliori città del lavoro 2023. Per la definizione della classifica nazionale delle migliori città del lavoro in Italia sono stati presi in considerazione sette parametri. Livello dei redditi e costo della vita, servizi di cittadinanza, sociale e sanità, offerta formativa, trasporti e accessibilità, cultura e tempo libero, offerta culturale, sicurezza, incidentalità stradale, criminalità, sicurezza sul lavoro, sicurezza del territorio, vivibilità ambientale, inquinamento, produzione rifiuti, verde pubblico, condizioni climatiche, inclusione, diritti e pari opportunità, qualità della vita delle donne, qualità della vita dei bambini, dei giovani e vita degli anziani, futuro innovazione, demografia, impresa e digitalizzazione. Sulla base della media di tali parametri è stata definita la classifica generale. Questi fattori influiscono innegabilmente sulle scelte localizzative di occupazione e professione.